Sono stati quasi 500 gli interventi effettuati in questi giorni in Puglia dai carabinieri e dai carabinieri forestali a causa del maltempo e delle nevicate. Dal soccorso ad automobilisti in grave difficoltà al conforto portato a contadini rimasti totalmente isolati. Dal servizio di staffetta, ad ambulanze, all'aiuto prestato a degenti e personale sanitario di ospedali rimasti isolati. Ma soprattutto l'intervento dei militari è stato decisivo nel trasporto urgente di una neonata di soli 40 giorni in grave pericolo di vita. I carabinieri hanno persino portato del cibo ad un canile rimasto completamente circondato dalla neve. Circa 8.000 il numero degli effettivi impiegati che si sono alternati senza sosta e senza limiti di orario durante i 4 giorni di picco delle precipitazioni nevose. Tra gli interventi maggiormente rilevanti, quello in località Masseria Stornello Sardone del comune di Poggiorsini, dove una pattuglia ha salvato 4 persone che si erano allontanate la sera precedente per un'escursione serale e che erano rimaste bloccate all'interno del fuoristrada. I militari di Minervino Morge sono stati invece chiamati ad interminire lungo la contrada di Tria, situata a 10 km dal centro murgiano, dove un automobilista era rimasto intrappolato da un metro e mezzo di neve. Il malcapitato è riuscito a comporre il numero di emergenza 112, venendo così raggiunto dalla pattuglia della stazione dell'arma, che lo ha trovato colto da un principio di ipotermia. Ad Andria, in contrada Bosco Finizio, i carabinieri hanno salvato un'intera famiglia, inclusi due minori, anche loro rimassi bloccati per l'abbondante nevicata. Anche in questo caso il numero 112 si è rivelato insostituibile per la celerità dei soccorsi. Non è stato facile per i militari raggiungere il luogo, ostacolati da strade impercorribili e da tentativi di contatto con i malcapitati e resivani dall'impossibilità di usare i telefoni cellulari, mentre la temperatura scendeva fino a toccare i meno 6 gradi. Fortunatamente, anche per loro, la brutta disavventura è finita nel migliore dei modi. Soccorsi e rifocillati, la loro auto è stata trainata sino alla più scorrevole strada provinciale 234. Protagonisti del salvataggio della bimba di 40 giorni sono stati i carabinieri di Altamura, allertati dalla direzione dell'ospedale della Murgia che, vista l'impossibilità di utilizzare un elicottero, avevano richiesto un trasporto in condizioni di sicurezza entro massimo un'ora e mezza. Attraverso un servizio di staffetta ad altissimo rischio hanno scortato un'autoambulanza del 118 con a bordo la neonata di appena 40 giorni. In grave pericolo di vita è giunta sana e salva ed in tempo utile all'ospedale pediatrico di Bari. Grazie. 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 Grazie.